12 ordinanze di custodia cautelare, 14 obblighi di dimora, 28 misure interdittive, 40 indagati in totale e beni mobili ed immobili sequestrati per 63 milioni di euro e il bilancio dell'operazione Dark Shadow condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti con la polizia e coordinata dalla procura teatina. Scoperta e sgominata una vera e propria organizzazione criminale con base in Abruzzo e in Campania che, secondo gli inquirenti, falsificava F24 per il pagamento dei tributi fiscali in maniera da far azzerare il debito con l'erario. I clienti che si rivolgevano ai professionisti, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, provenivano da tutta Italia. I clienti venivano dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dall'Abruzzo, dalla Molise, dalla Puglia e anche dalla Campania stessa. Un giro enorme è portato alla luce dalle indagini di Fiamme Gialle e Polizia durate circa un anno. In debite compensazioni di imposte utilizzando crediti inesistenti oppure già utilizzati in precedenza. Questo è il meccanismo che si attuava attraverso il pagamento online di F24 con saldo debitore di 0,01 centesimi per far risultare ad Agenzia delle Entrate l'avvenuto pagamento. A capo dell'organizzazione le tre persone finite in carcere. Il teatino Maurizio Di Biase, 51 anni, titolare di un'agenzia di pompe funebri e due consulenti fiscali napoletani, Michelangelo Maffei e Renato De Luca. Di Biase era il principale referente dell'area chietina e pescarese, nonché procacciatore di clienti. A Chietiscalo poi c'era la base operativa, mentre i modelli F24 falsi venivano lavorati in campagna. Per quanto riguarda ovviamente i personaggi locali indagati sul territorio teatino è appunto un personaggio a noi conosciuto peraltro perché sono state fatte negli anni altre indagini su questo personaggio. Ai domiciliari, in esecuzione di ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, su richiesta del sostituto Ciani, sono finiti Mattia Di Biase, figlio di Maurizio, Lorenzo D'Arcangelo, Romeo Melaragna, Matteo Veneziani e Orazio D'Ambrosio, oltre ai campani Gennaro Maffei, Gelsomina Maffei, Vincenzo Campoluongo e Luciano De Rosa, questi ultimi già indagati in una max inchiesta in campagna sui furbetti dell'F24 assieme ai commercialisti De Luca e Maffei.